E' il campione olimpico, Gabriele Rossetti, secondo ora nello skid. Ci crede, ci crede Marco Innocenti. Conta Piotello, la nuova campionessa olimpica dello skid femminile è Diana Baccosi che conquista il titolo alla sua prima olimpiade, prima partecipazione. E' già sul tetto del mondo Diana Baccosi. Massimo Fabrizi, fossa olimpica, un'altra medaglia per l'Italia. Gelsi Carossi, nuovo record del mondo, 99 su 100, medaglia d'oro. Argento per Pellielo, esplode la gioia del clan azzurro. Gardo per Pallonga